La candidatura è nata dopo un percorso di tre anni, nel frattempo però è venuta la cosiddetta pandemia che indubbiamente si è fatto riflettere anche su scala nazionale su quello che stava succedendo. Terzo candidato sindaco dopo Cisinte Morsolin per la sfida elettorale del 12 giugno a Monfalcone, Francesco Orlando è sostenuto dalla civica Vela Verità e Libertà e dal Movimento Territorio e Libertà che raccolgono il dissenso nella gestione della pandemia dell'area No Vax No Green Pass e hanno il supporto degli ex leghisti cittadini in rotta con il sindaco in carica. E a marcare la distanza proprio all'attuale amministrazione che pure aveva appoggiato nel 2016, Orlando lancia l'accusa di non aver fatto molto in tema di immigrazione straniera in città. Ci sono le parole per i cani giustamente ma per gli immigrati non c'è una parola, certamente avrà fatto qualcosa però mi sembra importante far capire che queste sono persone che hanno bisogno di servizi e hanno soprattutto bisogno di imparare quello che è nella nostra cultura e quindi insegnare prima di tutto. Orlando vanta un'esperienza trentennale nella politica monfalconese e tra le priorità indica la rivitalizzazione del centro cittadino. Vorremmo fare un piano di avviabilità nuovo, un piano del traffico con un piano della sosta, faccio solo un esempio. I centri commerciali hanno i parcheggi gratuiti perché non possiamo fare i parcheggi gratuiti in centro almeno le prime due ore, in modo che la gente possa venire in centro a fare la spesa con due ore di tranquillità per poter fare del centro di Monfalcone il vero centro commerciale della città.